A differenza di Oriente Express, che sapeva dove andare, sul treno Disoriente Express, il nuovo spettacolo di Cinzia Leone, in cartellone al Teatro Golden di Roma fino al 25 ottobre, viaggia un'umanità varia e confusa, travolta da un'informazione in continuo mutamento, da una notizia detta in tv e smentita poco dopo sul grande web. Insomma, una... La cacciara, miardi, tutti che parlano, milioni di persone che parlano, esprimono opinioni, vanno in televisione, aprono blog, fanno siti, pubblicano post su Facebook, cinquettano su Twitter rispondendo tutti a domande che nessuno gli aveva fatto. E' molto difficile ormai distinguere l'informazione ufficiale dalle milioni di espressioni da parte anche della gente, che ormai appunto sono diventate anche loro informazione, pensa a tutti i blog, a tutti i siti, quindi in realtà la rete, parliamo di rete, perché poi Disoriente Express è uno spettacolo sull'esplosione della rete, è una grande esplosione di democrazia. E la democrazia ci racconta quanto è complessa la vita e la società. Sul palco con l'attrice romana, il suo commediografo Fabio Mureddu, nelle vesti di un disturbatore. Come mi capisco con Fabio, ovviamente non mi capisco con nessun altro, visto che c'è, scrivo, ma anche la lista della spesa, ma pure se devo scrivere ambizia, io lo chiamo. Ma alla fine, lo spettatore, come esce da Disoriente Express? Sai di essere disorientato per uno straordinario, potentissimo eccesso di democrazia, o perché finalmente si è reso conto di che cosa vuol dire la democrazia. Sette miliardi di persone che parlano, il che è meraviglioso, ma come dico benvenuti su questo treno, è il treno del disorientamento, e viaggia ancora inconsapevole, senza freni e senza binario, verso la democrazia. È un percorso, è un percorso in cui bisogna imparare e capire, come tutti i percorsi, ma l'obiettivo è meraviglioso, perché comunque la democrazia è il punto più alto dell'esistenza e semmai riuscissimo a raggiungerla sarebbe fantastico. Prima o poi, nella storia, non mi riferisco al mio arco di vita.